L'On. Paola De Micheli, Ministra Emerita e Trasporti, ha scelto Teramo come prima tappa nazionale per presentare la sua Rigenerazione Democratica, una nuova corrente all'interno del PD, che in Abruzzo sarà rappresentata dall'ex consigliere regionale Giorgio D'Ignazio. Rigenerazione Democratica, ma il Partito Democratico ha bisogno di una rigenerazione? Sì, credo che ne abbia bisogno perché siamo entrati in un tempo nuovo, i bisogni e le ambizioni delle persone sono molto cambiati, il Covid ci ha cambiato tutti e non solo per i nostri comportamenti sanitari, ma per quello che sono le nostre aspettative. Pensiamo alla situazione dei giovani, pensiamo alle donne, a che prezzo le donne hanno dovuto pagare in questa fase pandemica e il rischio è che non finirà. La Rigenerazione Democratica ha proposto e propone un manifesto sul nuovo umanesimo, proprio per individuare delle politiche concrete che abbiano un misuratore solo, i bisogni delle persone e quindi individuali e collettivi delle comunità. La visita a Teramo dell'Onorevole Paola De Micheli inizia tra le rovine del teatro romano, il bene archeologico più importante d'Abruzzo, sul cui recupero le stessa si era già impegnata negli anni passati e per il quale continuerà ad assicurare pieno appoggio. Parlando di comunità, non è un caso che la mia prima tappa sia qui. La vostra comunità ha bisogno di riappropriarsi di questo sito, di trasformarlo in un luogo di cultura, dopo tanti anni di battaglie e anche con una parte delle risorse già stanziate, l'amministrazione comunale a breve darà avvio alla fase operativa di questo progetto. Quante sono le comunità nel nostro paese che hanno bisogno di risposte di questo tipo e qual è il misuratore? Non è un misuratore economico, non è che si può misurare su quanti soldi si faranno rimettendo a posto questo sito. Il misuratore è la qualità della vita di una persona che vive qui a Teramo migliorerà perché ci sarà la disponibilità di un luogo culturale migliore dove si potrà sviluppare un'attività culturale di più alto livello.